L'1.56 scatta l'allarme in un'abitazione di via Giotta Montebelluna. Il padrone di casa si alza e lo spegne senza notare nulla di particolare. 30 secondi dopo ecco due individui, volto coperto da passamontagna, entrare nell'inquadratura della telecamera di videosorveglianza di Luca Bressan. E' proprio dal suo cancello che tentano di entrare senza però riuscirci. A quel punto i due si spostano sul retro ed entrano nel giardino della signora Annalisa che solo stamattina si è accorta del passaggio dei ladri, dal disordine della biancheria sullo stendino. Poi io dormo sempre con quel belcone là, così, vedi? E me lo sono trovato aperto. Ho detto ma che strano il vento di subito, non me lo apre perché ho anche la chiusura all'interno. E dopo mio figlio è venuto giù e ci siamo accorti. C'è la rete della vicina che ci comunica qua con noi e l'ho buttata giù. Però non è una bella sensazione l'idea? No, no, perché stamattina come voi alzate ho visto che un po' di angoscia te la mettono. Quindi da stanotte chiudi i balconi? Certo che sì, certo che sì. Da qui sono usciti e come si vede dalle immagini sono entrati nel giardino dell'abitazione accanto. Attraverso la finestra del primo piano si sono introdotti in casa, hanno girato indisturbati, incuranti della presenza di marito, moglie e due figli che in quel momento stavano dormendo. Hanno lasciato anche il frigo aperto, penso per farsi luce a questo punto, di notte senza luce accesa. Sono saliti in camera perché c'erano degli effetti, delle catenine che erano in camera. C'è la paura perché vedendo il video questi due erano due fenomeni abbastanza ben messi. La paura è sì che le reazioni possono avere anche loro. I ladri sono poi usciti dalla porta d'entrata, spariti con tanti e gioielli. Perfino le scarpe da calcio del ragazzo più giovane hanno portato via tutto. Nel corso della notte sono stati almeno una decina i colpi tentati o messi a segno nella frazione di San Gaetano. Da come ho capito sono entrati in un'altra abitazione qui vicino alla parallela diciamo di via San Gaetano e lì da come ho capito hanno portato via un anello e altri valori. Quindi almeno una decina di case. Sì, sì. Non è bello perché comunque metti in caso io arrivo a casa alle due perché erano le due di notte e se arrivo alle due di notte me le trovo avanti il portoncino d'ingresso. Non è chiaro se siano gli stessi individui che qualche ora prima avevano tentato di entrare nell'abitazione di Stefano Lira e della compagna che in quel momento si trovava in salotto a guardare la tv. Ha visto la porta che si apriva, si è richiusa subito. Una volta che si è chiusa la porta non è entrato, ha fatto il giro verso la porta finestra che abbiamo nel salone. Ha visto un'ombra che si affacciava per guardare dentro, ha visto le scarpe da sotto. A quel punto lei ha urlato fortissimo per lo spavento. Svegliato dalle urla Stefano si è alzato ma i due nel frattempo erano fuggiti verso la vicina ferrovia. Non è un bel vivere, vivi agitato, poi ne lascio immaginare la notte come può essere stata. Speriamo che si possa trovare una soluzione perché è pesante, è pesante, non è un vivere sereno. Anche andare via al weekend manualmente comincia a essere preoccupante.